Buonasera e bentrovati con questo nuovo appuntamento di Topic, un particolare appuntamento perché oggi abbiamo deciso di parlare di noi e lo facciamo con profondo orgoglio. Perché? Perché come vi abbiamo annunciato sui social oggi è iniziata un'avventura che riterrei evidenziarla come fantastica. Perché? Perché siamo su un canale nazionale Sicilia 242, quindi avvisate amici e parenti vicini e lontani. Noi da oggi parleremo della Sicilia, porteremo la Sicilia nella casa degli italiani. Questo è il nostro obiettivo, vorremmo accendere l'attenzione sul nostro lavoro, una sorta di servizio pubblico che mettiamo a disposizione di tutti coloro che hanno lasciato la nostra isola o lavorano fuori in altre città d'Italia, ma che sono sempre con l'orecchio pronto a sentire, ad ascoltare quello che accade sul nostro territorio. Questo è il nostro obiettivo, con uno sforzo incredibile del nostro gruppo editoriale. Io voglio darvi anche dei nomi, voglio anche darvi dei riferimenti che sono essenziali. Prendete carta e penna perché avrete la possibilità di interagire con noi e questo lo potrete fare tutto il giorno, mentre chiaramente scorrono anche delle immagini significative perché sono il lavoro costante della nostra redazione di Spazio Notizia. Vedete il collega Salvo Trovato che vi sta vicino praticamente step by step ogni ora per raccontare quanto accade in Sicilia. C'è una resegna stampa mattutina che viene sempre coordinata da Salvo Trovato e poi vedete anche queste trasmissioni che abbiamo già realizzato con personaggi importanti, con topic, l'appuntamento quotidiano sull'informazione per riuscire a dare il nostro pensiero su quello che accade e poi leader, il programma che vede come protagonista un ospite, un ospite che noi definiamo leader perché è una delle figure che noi ovviamente riteniamo tra le più importanti in qualsiasi settore della nostra vita. Ci sono politici, ci sono artisti, sindaci, insomma ognuno con le proprie competenze per poter far sì che si possa pensare che quello che viene svolto da loro è sempre un lavoro importante, fondamentale, necessario per l'intera collettività. Abbiamo registrato queste puntate che andranno chiaramente anche in replica su tutto il territorio nazionale. Allora andiamo come detto ai nomi e ai numeri, avete sicuramente preso carta e penna e potrete scrivervi per esempio come contattarci con una semplice mail come potrete anche vedere ora nella grafica, questo è anche il numero telefonico che noi mettiamo a disposizione per un'iniziativa che è importantissima. Fate girare questo tipo di messaggio che io vi voglio dare, il 3792 24 24 20 Whatsapp vi darà l'opportunità di farci arrivare i vostri messaggi video che noi riassumeremo all'interno di uno dei nostri contenitori, quindi fateci sapere dove siete, in quale città vi trovate, come vedete il nostro canale, se potrete darci eventualmente anche dei consigli perché noi siamo a vostra completa disposizione. Il numero è questo, lo ribadisco, 3792 24 24 20. La vostra mail per scriverci, anche i vostri consigli, le vostre manifestazioni di presenza, fateci sentire vicini a voi, noi dalla Sicilia, voi dovunque voi siate. Ecco, redazione chiocciola spazionotizia.it e questo è per raggiungerci. E poi volevo dirvi che noi siamo Sicilia 24, siamo Vintage Radio TV e abbiamo due canali del digitale terrestre che coprono tutta la Sicilia, sono il canale 76 e il canale 84, copre tutta la regione siciliana. Ovviamente ci sarà la possibilità anche di andare sul canale 15 per poter vedere con una smart tv anche la nostra programmazione. Cercate spazionotizia.it e troverete le nostre produzioni. Poi, come detto, in apertura con grande soddisfazione abbiamo da mettere a vostra disposizione il canale 242 Sicilia 242 che aprirà questa importante finestra sul panorama italiano. Quindi aspettiamo, l'ho detto anche prima, da parte vostra consigli e soprattutto la vostra posizione. Fatevi sentire, noi quotidianamente diremo chi sarà collegato con noi da tutto il territorio nazionale. Allora, per fare questo lavoro ovviamente io non sono da solo, sono il responsabile della rete della programmazione, ma c'è un direttore responsabile per quello che riguarda l'attestata giornalistica e Mauro Romano, il collega che chiaramente saluto e ringrazio per la sua grande capacità professionale. Abbiamo salvo trovato, avete visto anche nella clip, che è colui che gestisce l'informazione ora per ora. Quindi è il faro puntato su quello che accade, occhi puntati sulla realtà, potremmo dire così, insieme a Chiara Greco. Abbiamo in redazione anche Andrea Sant'Angelo, che si occupa della parte tecnica, insomma è un informatico. E poi Viviana Di Dio e Rossana Brancato. Poi abbiamo una serie di collaboratori esterni. Ne voglio citare uno su tutti, Lucio Di Mauro, che ha ideato e conduce MediArt, un programma che ha molto successo, molto seguito. Lui fornisce anche molti servizi che sono legati al variegato mondo dello spettacolo. E poi chiaramente ci sono altre collaborazioni esterne. E poi, volevo dire, dulces in fundo, stiamo preparando altri format. Uno a cui tengo particolarmente, visto anche il mio storico, è Spazio Sport. Spazio Sport vorrà essere il faro acceso, la luce importante su tutti gli sport che insistono sul territorio siciliano. È chiaro che ci occuperemo anche del calcio, perché è ovvio il calcio è lo sport per eccellenza, ma noi riteniamo che la giusta tribuna debba essere data anche a quegli sport che tanti definiscono minori, ma che non lo sono, perché sono quelli che ci hanno dato di più, ci hanno dato tante e grandi soddisfazioni. Parlo per esempio della scherma, della palla a nuoto, che con le medaglie d'oro anche riuscite a prendere nelle famose Olimpiadi. Insomma, le medaglie d'oro nella scherma. Insomma, ci sono tante parentesi sportive e tanti racconti che vorremmo fare. Con il palinzesto che sarà work in progress, perché cercheremo di aggiungere, ovviamente secondo anche le indicazioni che riceveremo da voi, che siete praticamente la nostra fonte per uscire a dare tanto con questa esperienza, che riteniamo per la Sicilia importantissima. Perché, vedete, in Sicilia ci sono tante realtà televisive che focalizzano la propria attenzione soprattutto su quello che succede sul territorio siciliano. Ebbene, noi faremo questo, ma cercheremo anche di trasferire tutto quello che faremo in Sicilia ai nostri concittadini sparsi per l'Italia. Era questo che volevo comunicarvi con grande orgoglio e, come detto, ringrazio fondamentalmente e soprattutto il gruppo editoriale che mi ha messo nelle condizioni di portare avanti questa programmazione che mi auguro da voi gradita. Bene, sono arrivato in chiusura di questo topic particolare, topic per parlare di noi. L'ho fatto realmente con grande soddisfazione e allora vi do appuntamento sempre con topic a domani, sempre alla stessa ora, alle 18. Grazie per avermi seguito, arrivederci.